Io avevo uno zio, che si chiamava lo zio Roberto, che una volta mi disse, sapendo che a me piaceva il cinema, quando farai regista ricordati di fare dei film che possano piacere a noi vecchietti. Lui aveva superato i 70 se non gli 80 anni. Io non sono mai diventato un regista, film miei non ne ho fatti, però qualcuno deve averlo ascoltato, perché è una decina d'anni, anche qualcosa di più, che si moltiplicano i film che hanno come protagonisti di storie d'avventura o romantiche divi abbastanza in là con gli anni, che hanno magari superato non solo i 60, ma magari anche i 70, e forse anche gli 80 anni. Abbiamo visto di recente, per esempio, l'esempio di Robert Redford e Jane Fonda nel film che è stato presentato a Venezia nel 2017. Il film che vediamo oggi si intitola Mai così vicini, in inglese è And so it goes, cioè va così, ed è appunto una storia d'amore, i cui protagonisti sono Michael Douglas e Diane Keaton, che, come sempre succede nei film romantici, all'inizio si detestano. Lui è un agente immobiliare, vedovo, che non riesce a vendere la sua villa e si adatta nel frattempo a stare in un appartamento e si trova come vicina di casa una vedova inconsolabile, che è un ex cantante di Night Club, che è per l'appunto Diane Keaton, si detestano, fino a quando poi a lui viene affidata dal figlio, che è un ex tossico, una bambina, a Sara, e questa cosa progressivamente li avvicina. Il titolo italiano Mai così vicini gioca sul fatto che questi sono vicini di casa. Il titolo originale, And so it goes, riecheggia invece un altro film che si chiamava As Good As It Gets, che era stato scritto da Mark Andrews per James L. Brooks. Mark Andrews è lo sceneggiatore anche di questo film. Anche qui, come in As Good As It Gets, che in italiano era qualcosa di cambiato, ve lo ricorderete, era quello con Jack Nicholson, che era un misantropo che detestava tutti e che si apriva grazie a Ellen Hunt, anche qui abbiamo Michael Douglas, che è un personaggio, una variante di quello stesso tipo di personaggio. Alla regia c'è anche lì un regista che ha dato il suo meglio negli anni Ottanta, ma che è un grande professionista della commedia e dei film di attori. Lui stesso è un attore, uno sceneggiatore. Si chiama Rob Reiner, è quello di Harry Di Presento Selle, di Misery Non Deve Morire, di Codice d'Onore, sempre con Jack Nicholson, che qui torna, dopo diversi anni, a un formato cinematografico che uno non associerebbe comunemente a una commedia romantica, al formato 2,35 a 1, quindi sostanzialmente un cinemascope. Tendenzialmente i film si girano molto spesso, i film, voglio dire, più introspettivi, più chiusi, più di dialogo, con un 1,85. L'uso del cinemascope dà immediatamente un respiro maggiore, anche se si tratta di un film a due persone, sostanzialmente. È un film piacevole, se volete, anche prevedibile, ma tante volte al cinema la prevedibilità non è un difetto. Godetevi mai così vicini.